Musica Assessore, siamo giunti alla seconda edizione del Festival della Scuola? Sì, siamo giunti alla seconda edizione, sono felicissimo di questa seconda edizione perché il Festival delle Scuole nasce proprio da una volontà degli alunni, di tutti gli studenti e studentesse che vogliono dire la loro esibendosi sia con musica, con arte e nello sport. Possiamo dire quindi che il municipio è dalla parte dei giovani a cui è importante dare spazi, riconoscere anche la libertà di esprimersi? Sì, siamo felicissimi che i ragazzi iniziano a dire la loro, passatevi una piccola frase scout, i ragazzi iniziano a guidare la loro canoa e soprattutto diventano attori protagonisti della loro vita, perciò il municipio è favorevole che loro vogliono dire la loro e su questo siamo al loro fianco. Tutti litigare quello è normale, ma poi si fa sempre l'amore parlando di tutte e di tutti, facciamo duemila progetti, due volte ricordi bambino, mi springo e ti tengo vicino.